Ciao, sono Massimo Ranieri, dopo un po' di anni finalmente ritorno negli States, come dite voi. La mia gioia è immensa, quella di rivedervi dopo tanto tempo. Vi abbraccio forte a tutti quanti e sono lì. Il mio cuore già sta lì con voi, il mio cuore è qua, sono nei giardini del Presidente della Repubblica perché tra poche ore campi in diretta in televisione qui in Italia e penso che lo vedrete anche voi in differenza. Un abbraccio forte 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 e non vedo l'ora sinceramente di riabbracciarvi dopo tanto tempo. Ciao, grazie, bacio a tutti.